Circa 70 frati francescani in pellegrinaggio dalla cripta della Basilica di San Nicola di Bari, dove sono custodite le reliquie del Santo di Mira, si sono diretti in una processione composta verso la Cattedrale di San Sabino. Il 29 novembre, una data da ricordare perché nello stesso giorno del 1223, Papa Onorio III approvava la regola di vita al serafico padre San Francesco d'Assisi. Per Francesco la regola non era un insieme di codicili o di norme che andavano a limitare la libertà dell'altro, ma invece la forza stessa del Vangelo che dava forma alla vita la potenziava in una rivoluzione per quei tempi che era appunto la dimensione della fraternità. Ecco oggi questi tre istituti religiosi si ritrovano insieme per attestare la bellezza e ci restituiscono la possibilità anche di riflettere su ciò che è liberante per la vita dell'uomo e su ciò che è necessario per costruire questa casa comune della fraternità umana. La regola dei frati minori regolamenta appunto la vita e la missione di noi francescani e dopo 800 anni abbiamo il cuore colmo di gratitudine per cui vogliamo dire a tutti che è possibile ancora animare la Chiesa di Dio attraverso il carisma del poverello d'Assisi che fondamentalmente è il carisma della semplicità evangelica. Per cui rimanendo fedeli al passato vogliamo tuttavia essere anche creativi, cioè portare quelle forme nuove per dire che il Vangelo di Gesù è possibile viverlo. Tra l'altro la regola si apre proprio così, la vita e la regola dei frati minori è questo, cioè osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. Un cammino che simboleggia e fa memoria di quello compiuto proprio da Francesco verso la Chiesa Madre di Roma per chiedere al Papa l'approvazione della regola di vita del suo ordine. Un momento di festa, di fraternità tra tutti gli appartenenti alla famiglia francescana e di nuovo inizio, dopo 800 anni iniziamo un nuovo percorso che speriamo duri oltre altri 800 anni. Grazie.